Se stai avendo difficoltà riguardo al dispositivo audio che non viene rilevato sul tuo sistema operativo è possibile risolvere il problema andando tasto destro su start qua a gestione dispositivi vai direttamente su input e output audio ed eccoli qua i nostri dispositivi audio se c'è il tuo dispositivo audio qua sopra e c'è un triangolino giallo vicino devi fare solamente tasto destro sopra abilita dispositivo disabilita abilito di nuovo dispositivo se l'errore persiste disinstalla il dispositivo collega di nuovo il tuo dispositivo audio o cuffie o casse e poi fai aggiornadriver cerca driver nel computer troviamo così i driver ed eccolo qua faccio avanti e lo installo se invece è un problema direttamente sulla scheda madre nella porta proprio dove inserisci il cavo jack ed è un problema della scheda madre vai direttamente sul sito della tua scheda madre ovviamente se non sai che scheda madre hai basta andare direttamente qua sopra system information scrivi qua sopra system information e questa è la tua scheda madre prodotto scheda di base io vado direttamente sul sito della mia scheda madre basta che scrivi la tua scheda madre vicino metti driver e download ti porterà direttamente sul supporto della pagina della scheda madre vado su driver scendo fino a giù scriviamo così i file ed eccolo qua realtech audio driver eseguiamo come amministratore il setup e vai ad installare così il driver poi il tuo sistema se invece è un altro problema andiamo direttamente su impostazioni audio tasto destro su impostazioni audio andiamo direttamente su altre impostazioni audio riproduzione questione dispositivi che uso tasto destro sopra e faccio prova imposta così il dispositivo di comunicazione è predefinito proprietà livelli alziamo così livello avanzate mette la spunta qua sopra lo sonic per cuffie se l'errore persiste vai direttamente su risoluzioni problemi altri strumenti di risoluzione dei problemi e qua puoi rilevare così il problema quindi fai su audio eseguiamo così una diagnostica sul dispositivo controllo l'output dell'altoparlante esegui lo strumento di risoluzione problemi verificare che tutti gli aggiornamenti di windows update siano installati controllare i cavi le prese e qualsiasi altra cosa quindi vado direttamente su windows update per vedere se ci sono degli aggiornamenti da fare verifica disponibilità aggiornamenti ultimo aggiornamento che ho fatto la versione quella appena uscita di windows 11 24 h2 installazione riuscita il 3 di ottobre e ho qualche aggiornamento da fare ma è per microsoft defender antivirus quindi per altri problemi ancora puoi commentare sotto il video e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial ciao